Se è un gattaro se, usi il tuo gatto come cuscino ma non ti appoggi per non fargli male. Se è un gattaro se, dialoghi tranquillamente con il tuo gatto. Tanto lo so che l'hai fatta tu la petizione. E la tua voce si fa stridula il più delle volte. E ci c'è un tila bella. Se è un gattaro se, la parola che ripeti più spesso è... No, 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 no. Se è un gattaro se, passi il tempo a cercare dove si è nascosto. E ti preoccupi sia scappato. Se è un gattaro se, entri a casa è la prima cosa che fai è salutarlo. Esci di casa è l'ultima cosa che fai è salutarlo. Se è un gattaro se, muovi il sacco dei croccantini per scoprire dove si è nascosto. Se è un gattaro se, hai perso il conto delle palline che hai comprato e tutte inspiegabilmente scomparse. Beh, non proprio tutte. Se è un gattaro se, viene prima lui e poi tu.